Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi, venerdì 25 novembre 2016, un mese esatto al Natale. Vediamo subito il santo di oggi, oggi è una santa, una santa importante, Santa Caterina d'Alessandria. Parliamo della figlia del governatore di Alessandria d'Egitto, appena sentì parlare della religione di Cristo vi aderì e si fece battezzare dedicandosi alla beneficenza e all'istruzione dei pagani. La leggenda vuole che il suo corpo fu una volta morto, straziato, fu trasportato sul monte Sinai dagli angeli e qui seppellito. Il sole è sorto alle 7 e un quarto, tramonterà alle 16 e 35, il cielo per oggi sarà nuvoloso con precipitazioni sparse, in particolare nel pomeriggio, quando localmente potranno assumere anche carattere di rovescio. Le temperature sono stazionarie, i venti sud orientali di brezza tesa nell'entroterra, ma ci sarà vento moderato poi, lungo la fascia costiera. Nel corso del pomeriggio ci sarà un'attenuazione dell'intensità dei venti e la rotazione dei quadranti occidentali. Per domani, domani avremo cielo sereno o poco nuvoloso con le minime in diminuzione, le massime senza variazioni di rilievo. domani, domani, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo. Per la giornata di lunedì ci sarà una debole instabilità, seguita da un rapido ritorno di condizioni di prolungata stabilità. Allora, c'è la rivolta delle infermiere, perché? Perché, e qui adesso non vogliamo fare troppa pubblicità, perché poi alla fine succede sempre così, che uno protesta ma alla fine fa il gioco di qui, fa il gioco di quell'altro. Allora, che cosa succede? C'è questo manifesto che qualcuno probabilmente avrà visto, un locale a luci rosse che ha sponsorizzato il suo locale appunto con l'immagine di una sexy infermiera, il sexy hospital. Giochiamo al malato e l'infermiera, ecco, insomma, e adesso le infermiere, quelle vere, quelle che studiano, quelle che si preparano, quelle che si prendono cura di noi quando andiamo in ospedale, si rivoltano e protestano. La contestazione contro i manifesti è lo spettacolo della porno star. Sofia Cucci, Ariccione parte da Pesaro, Laura Biagiotti dice basta con i luoghi comuni e le offese alle categorie. Questa è la pagina principale del resto del Carlino. Poi da domenica il Carlino regala il puzzle della Rocca di Gradara, le iniziative del giornale in edicola, separatamente le 15 tessere, gioiello del territorio, un'iniziativa della quale abbiamo parlato anche nella giornata di ieri. Poi c'è il prefetto di Pesaro Pizzi che al comune di Pesaro ha chiesto di rendere più sicura la statale 16, in particolare vicino alla scuola Santa Marta dove, ricorderete, è morta una studentessa qualche settimana fa, e sotto lo spacciatore fanese, molto social, dopo l'arresto per degli amici. Cioè, fanese nel senso che stava a Fano, sta a Fano, il ragazzo di 24 anni, come vedremo tra poco, è un albanese. Ospedale, sabotata la centralina nei sotterranei, misteriosa manomissione ai fili del telefono e delle telecamere. Sono stati allertati i carabinieri. E allora, andiamo sulla pagina di Fano, subito del resto del Carlino, vediamo questa notizia di apertura di cronaca. Musica, donne e selfie con lo champagne, manetta al pusher amante della bella vita. I carabinieri mettono fine all'esistenza adorata di un 24 anni albanese. Appena hanno saputo dell'arresto, in tanti gli hanno tolto l'amicizia su Facebook, ne aveva all'incirca un migliaio. E poi uno shopper, una busta, vedete, contro la violenza sulle donne. Andiamo sull'altra pagina adesso del resto del Carlino. Sbarca sul web la TV dei ragazzi speciali, così confezioniamo il nostro telegiornale. Si chiama Altre Visuali, il canale attivo su internet. Il finanziamento del centro servizi volontariato sta per finire, serve uno sponsor privato. Locandine esposto al prefetto. Siamo a Mondolfo, stampati dei manifesti senza i nomi dell'opposizione. I 5 Stelle contro l'amministrazione, comportamento inaccettabile. Di Otalevi replica, volevamo semplicemente aumentare il contatto con i cittadini. Incursione in ospedale, sulla pagina di Pesaro. Manomessi i telefoni, danneggiata la centralina nel sotterraneo. Bloccato anche il collegamento con internet. Gli autori del vandalismo non sono stati trovati, indagano i carabinieri. Nella fotografia il direttore generale dell'azienda Marche Nord, Maria Capalbo. Anche la Guardia di Finanza confida su Rex, il famoso pastore tedesco della televisione. Anche se i nomi sono Istor e Uro. Ora sarà più facile scoprire i nascondigli della droga grazie al fiuto di questi due cani che sono arrivati in forze nel comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Pesaro. Andiamo adesso invece sull'ultima pagina del resto del Carlino, quella di Fossombrone, Cagli e Urbania. Per questa buona notizia, per gli automobilisti, la notizia è quella che è stata riaperta. La superstrada che collega Fano, diciamo così, fino all'entroterra, Fossombrone, dopo anni di passione tra Fossombrone e Sant'Ippolito. Secondo l'ANASI i ritardi sono dovuti a inadempienze della ditta appaltatrice e poi come al solito chi ci rimette sono comunque gli utenti, in questo caso gli automobilisti. A Fossombrone, Sanità, dialogo tra sordi, veti incrociati sugli ordini del giorno. Maggioranza e opposizione si trovano distanti. Apriamo adesso il Corriere Adriatico. La prima pagina è sulla droga a scuola. Ne gira tantissima e soprattutto si comincia davvero presto. Il primo spinello già a 12 anni. Blitz a scuola con i cani, accordo tra i guardi di finanza e i presidi per verificare periodicamente quello che c'è in giro con cani appunto antidroga e a sorpresa naturalmente negli istituti. La foto è per il treno che lascia a piedi i pendolari. Niente rinnovo della card, esaurito il contributo di 500 mila euro della regione. La tessera era stata studiata per favorire la mobilità. E adesso le pagine interne. Dicevamo della droga. Due pagine, due pagine sul Corriere Adriatico di questa mattina. Vediamo tutte e due insieme. Eccola qua. Droga a blitz a scuola con i cani, la caccia allo sballo giovanile, accordo tra i presidi appunto della Guardia di Finanza. Già a 12 anni il primo spinello. Tutti i trucchi dei ragazzini che utilizzano dalle dosi con lo scotch sotto la scarpa, tra la suola e il tacco. Per non farsi scoprire. Coca, Naita e Champagne. Il Corriere mette a pagina 3 la notizia del giovane arrestato dai carabinieri a Fano, tradito dalla mondanità delle fotografie che pubblicava su Facebook. Ma in realtà lui era senza lavoro, questo 24enne dell'Albania. Popolare su Facebook dove postava le foto delle sue serate all'insegna della Baldoria. Le altre pagine. Andiamo su quella dedicata a Urbino, Pesaro e Provincia. Pesaro e Provincia, il giallo dell'Isabella d'Este. I misteriosi viaggi di Isabella tra Italia e Svizzera. Il quadro, il quadro di Leonardo Conteso, ora divide anche sui luoghi. La complessa battaglia processuale si sposta dalla paternità del quadro a dove l'opera sia stata. Nell'ennesima udienza sono stati ascoltati i testi dell'accusa con botta e risposta tra il pubblico ministero e i legali. Fuga di gas, sempre a Pesaro, rischia di far saltare un condominio intervento dei pompieri in un garage a Villa San Martino. Parte l'invasione dei mercatini di Natale. Domani a Monbaroccio il primo degli otto tradizionali appuntamenti natalizi. L'anno scorso arrivarono 30 mila persone. Funziona l'accordo, il gemellaggio con Bolzano. Il sindaco Vichi, il sindaco di Monbaroccio, dice ormai siamo nel circuito nazionale. Tanti arrivi, anche fuori stagione. Da Fano, l'Isippo, rivendicazione più forte. La statua nel patrimonio italiano. L'emissione filatelica di oggi conferma l'assunto della sentenza del Tribunale. Ecco l'immagine, dunque, del francobollo postale. Quello che da oggi, giorno di emissione, potrete trovare appunto alle poste. Si inaugura la mostra organizzata dall'Archeoclub di Fano e dal Circolo Castellani. Lesioni cutanee, croniche, convegno di aggiornamento. Della patologia soffre il 3% della popolazione. Aeroporto, l'aeroporto nella pagina di Fano. Attività a rischio per la disdetta. La scadenza è l'8 dicembre. La società Eagle dovrà abbandonare tutti i servizi per irregolarità formali. La commissione di controllo chiede al comune chi subentrerà nella gestione. Ancora non c'è stata però nessuna risposta. Il presidente della commissione del Vecchio ha convocato tutti gli operatori. Clima generale di sfiducia. Sostegno per l'apprendimento. Siamo a pagina 46 del Corriere. Aperto il centro disappunto che aiuta i ragazzi con difficoltà certificate. Si avvale di software dedicati e consulenti agendo su autostima e capacità. E poi ancora dalla Valle del Cesano Barbieri, il sindaco di Mondolfo, promuove la sua maggioranza esposto contro gli avvisi di parte. I 5 Stelle si rivolgono al prefetto per la comunicazione negli spazi pubblici. E poi mettiamo limiti fisici e temporali al gioco con le slot machine. Da San Lorenzo in campo la minoranza chiede una distanza di 500 metri dai luoghi sociali e un tetto di 8 ore. Sollecitato l'intervento del comune contro il dilagare della dipendenza patologica. E poi sempre dal Corriere Adriatico, le ultime pagine, quella di Senigallia. Il comune può chiedere i danni ai dirigenti sotto accusa, incarichi e retribuzioni. Ora chi ha incassato di più rischia di dover restituire i soldi. La relazione degli ispettori del Ministero evidenzia anche il mancato rispetto della trasparenza. L'ultima pagina del Corriere. Eccola qua. Andiamo su Pesero primo piano per parlare dei, scusate, primo piano delle marche. Quindi a testimonianza del fatto che l'argomento è di rilevanza non solo provinciale ma avrebbe da dire nazionale. Parliamo dei vaccini. Non curiamoci sul web. I genitori vanno aiutati. Il responsabile prevenzione dell'Asur, Massimo Agostini, del Dipartimento della Prevenzione dell'Asur di Fano, dice stanno tornando patologie pericolose. Ogni operatore sanitario deve dare risposte concrete ed essere chiaro. Ora, c'è un articolo che purtroppo non abbiamo potuto scaricare perché abbiamo un limite di sei pagine. Sul resto del caleno di oggi, nella pagina nazionale, dove c'è un'intervista a un troller, colui che fa di mestiere, oltre in questo caso l'operaio, però come secondo lavoro fa il divulgatore di bufale. pensate che ha fatto condividere più di 100.000 persone una notizia completamente assurda, cioè finta, fintissima. C'era un sosia di Umberto Eco con la scritta, io voto sì, una cosa del genere, pubblicata con tanto di articolo. e voi non avete idea di quanti milioni di utenti di Facebook hanno commentato quella notizia, insultando persino Umberto Eco. Ma attenzione, Umberto Eco, pace all'anima sua, è morto, già da un pezzo. È tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia.